Unione Europea e Svizzera firmano l'accordo dal 2018 fine del segreto bancario nella Confederazione Elvetica. Il piano della Commissione sull'immigrazione, trasferire 40.000 rifugiati da Italia e Grecia in altri paesi UE, ma Bruxelles insiste, non chiamate le quote. Dal Parlamento Europeo, primo via libera al TTIP, ma si accende lo scontro tra maggioranza e opposizione sugli arbitrati investitori Stato. La Svizzera non sarà più un paradiso fiscale. Dopo anni di serrati negoziati, l'Unione Europea e la Confederazione Elvetica hanno firmato a Bruxelles l'accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. L'intesa entrerà in vigore il 1 gennaio del 2017 e i primi scambi di dati potrebbero avvenire nel 2018. Il testo però deve ancora essere approvato dal Parlamento Svizzero e potrebbe essere sottoposto a un referendum, che in questo caso solo facoltativo, ma vista la portata della materia, molti osservatori lo danno per scontato. Come scontata, o quasi, è data la vittoria di un sì se la consultazione si terrà, visto che respingere l'intesa vorrebbe dire chiudere i rapporti finanziari con l'Unione Europea e l'Ocse, che inserirebbe la Confederazione nella lista nera dei paradisi fiscali. Secondo l'intesa, tutti gli istituti finanziari elvetici raccoglieranno i dati dei loro correntisti o depositari e li inoltreranno alle autorità fiscali svizzere, che poi li trasmetteranno a quelle dei paesi dei loro clienti stranieri. Gli stati dell'UE agiranno nello stesso modo verso la Confederazione. La trattativa, che cancella decenni e decenni di storia bancaria svizzera, è stata molto serrata, ma Berna non aveva via d'uscita. 24.000 dall'Italia, 16.000 dalla Grecia. Tanti sono i rifugiati che, secondo la Commissione Europea, dovranno abbandonare nei prossimi due anni i paesi più provati dalla pressione migratoria per essere ripartiti negli altri stati europei. Il meccanismo riguarda solo i richiedenti asilo arrivati dopo il 15 aprile di quest'anno ed esclusivamente eritrei e siriani. Sono queste, infatti, le due nazionalità a cui più facilmente viene riconosciuto il diritto alla protezione internazionale. I 40.000 andranno ridistribuiti negli altri paesi sulla base della loro popolazione, del PIL e in misura minore di disoccupazione e sforzi già effettuati in tema di immigrazione. A conti fatti ad accoglierne di più sarà la Germania, che tra Italia e Grecia ne prenderà oltre 8.700, poi Francia con quasi 7.000 e Spagna con 4.000 erotti. Numeri, cifre, ma non chiamate le quote. Non proponiamo la riconoscenza delle quote. È una parola che non piace e che non abbiamo mai usato. Tutto questo è per assicurare la solidarietà, ma è up to each member state to decide on how many persons they will grant refugee status. Non solo una sottigliezza linguistica, ma un tentativo di appianare le divergenze con quella decina di paesi, Francia inclusa, che si sono dichiarati contrari all'introduzione di quote. Il processo è ancora solo all'inizio e per il via libera serve la maggioranza qualificata degli stati membri. Il meccanismo sarebbe comunque solo emergenziale, mentre la Commissione punta a presentare la proposta per un sistema di ridistribuzione permanente entro la fine dell'anno. I negoziati sul trattato di libero scambio tra Stati Uniti ed Europa devono andare avanti. A chiederlo il Parlamento europeo, che ha dato il primo via libera alla relazione Lange sul TTIP, che è stata approvata in Commissione Commercio Internazionale. A favore tutti i principali gruppi dell'emiciclo, popolari, socialisti, conservatori e liberali. Contrari invece Verdi, Sinistra Unita GUE ed euroscettici EFDD. A scatenare maggiormente il dibattito, l'apertura agli arbitrati tra investitori e Stato, gli ISDS, che, seppur non esplicitamente nominati, nel testo vengono ritenuti necessari, seppur fortemente riformati. Le opposizioni puntano il dito. Il dito contro i socialisti, REI, a loro avviso, di aver ceduto alle pressioni dei popolari e di aver cambiato opinione su questo punto centrale delle negoziazioni in corso. Fino ad ora ritenevano inaccettabile l'istituzione degli arbitrati privati e ora invece vanno contro gli interessi degli europei, che rigettano in maniera massiccia questo meccanismo, ha attaccato il verde Yadot. Il voto definitivo in plenaria è in programma il prossimo 8 giugno. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS